Torna Captain Tsubasa Ace. Dopo qualche mese di assenza rivediamo in azione il gioco mobile dedicato a Captain Tsubasa, in Italia conosciuto come Olly e Benji. Il titolo, annunciato nel luglio 2022 come esclusiva mobile, si era mostrato in una beta chiusa nel mese di dicembre e oggi si è aperta una nuova beta, ancora una volta esclusiva purtroppo per il mercato cinese. In questi mesi il team di sviluppo ha portato diversi miglioramenti sia in termini di fluidità ma anche l'aggiunta di diverse animazioni, crendono il gioco sviluppato da Dena, sempre più simile a Captain Tsubasa Rise of the New Champions, già visto su console e pc e lanciato nell'agosto 2020. Per il momento non ci sono indicazioni ufficiali circa la data di uscita, anche se in discrezioni parlano di una beta aperta in Europa tra 1-2 mesi e una uscita ufficiale in autunno, più o meno in concomitanza con la seconda stagione dell'anime di Captain Tsubasa. Iscrivetevi al canale per non perdere nessuna novità. VIVA Tsubasa!